La sicurezza è un diritto, l'informazione è un dovere. Questo è lo slogan scelto dalla TGR per la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Per affrontare il tema abbiamo scelto una vicenda emblematica. 15 anni fa a Campobasso in un cantiere morirono due operai. In diretta dal luogo di quell'incidente c'è Maria Grazia Fascitelli. A te la linea. Sì, buongiorno Francesco, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo davanti all'Istituto Pertini per la precisione dell'Istituto Tecnico Statale per le Attività Sociali. Appunto Sandro Pertini in via Scardocchia a Campobasso. E partiamo da qui per compiere questo viaggio di questa settimana con la campagna della TGR sulla informazione sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Perché? Abbiamo scelto questo posto perché questo è un luogo simbolico. Ed è un luogo a forte impatto emotivo perché come dicevi tu Francesco 15 anni fa è stato scenario, teatro di una tragedia. Qui nel 1999 ci sono state due morti bianche nella stessa giornata. E poi una scuola, quindi un luogo simbolico anche perché in effetti solo tre anni più tardi un'altra scuola, la Iovine di San Giuliano di Puglia, è stata protagonista di un altro evento tragico. Come sapete la morte dei bambini, 27 bambini e la maestra nel giorno del terremoto il 31 ottobre del 2002. Ma andiamo con un'altra data che è l'11 marzo 1999. Quel giorno due operai Bernardino di Palma e Antonio Miele morirono qui, in un cantiere che si trovava proprio dove adesso oggi sorge questa scuola. E stavano lavorando in un fossato che era stato scavato proprio all'interno, diciamo nel recinto, nell'altro inferno della scuola. Vedete adesso è anche aperto il cancello. quando improvvisamente la terra e il fango si sono mossi, quindi si sono trovati proprio sepolti da cumuli di terra e hanno gridato aiuto, hanno cercato, insomma i soccorsi ci sono stati da parte dei vigili del fuoco anche immediati, ma non c'è stato nulla da fare, è stata una morte lenta e tragica. L'obiettivo della campagna della TG è anche ricordare episodi come questo ed è capire se a distanza di anni, in questo caso 15 anni, i risarcimento sono arrivati, le soluzioni sono state trovate. Noi abbiamo degli ospiti che voglio subito coinvolgere, cominciamo dalla dottoressa medico legale del dirigente medico dell'INAIL Maria Carmela Mascaro, che è stato il medico legale che ha seguito i due casi, quindi una testimonianza diretta la sua. Buongiorno, all'epoca ero il medico della sede di Campobasso, per cui mi sono occupata direttamente della trattazione medica del caso. L'INAIL all'epoca si attivò per definire nel minor tempo possibile il caso mortale, come anche per stare vicino alla famiglia e i superstiti, per cui il 16 marzo già il caso era definito e il 30 marzo è stata costituita la rendita dei superstiti. Sono passati ben 15 anni da allora e l'INAIL ha ampliato quelli che sono i suoi orizzonti, per cui da istituto prettamente assicuratore è passato e ha allergato le competenze e gli interventi nel campo della prevenzione. Prevenzione che svolgiamo più o meno, diciamo quasi a 360 gradi, tutte le professionalità dell'istituto, partendo dalla formazione e informazione, arrivando agli incentivi alle imprese. A proposito, scusi se all'interrompo, di formazione c'è infatti un progetto presentato da poco dell'INAIL in collaborazione con l'ACEM e alcuni enti formativi per la formazione nelle ore di lavoro, questo è importante, nelle ore di lavoro, voglio dire per imprese agricole, edili, quindi appunto la prevenzione è fondamentale. Sì, appunto, perché questo nella piena convinzione che la prevenzione sia innanzitutto formazione, formazione dei lavoratori e formazione dei datori di lavoro che devono, appunto, mettere in atto tutti gli strumenti volti ad evitare che si verifichino episodi quali quelli che hanno portato purtroppo al decesso di miele e di palma, ed effettivamente possiamo dire che anche lo scenario di questa tipologia di infortuni sta cambiando, in quanto nel corso degli anni vediamo che sono già diminuiti infortuni della tipologia di questo di cui si parla oggi e purtroppo restano comunque elevati gli infortuni mortali causati dalla circolazione stradale, quindi già lo scenario, diciamo, in questi 15 anni è cambiato. Ecco, lo scenario in 15 anni è cambiato, ma i dati ancora non sono confortanti sulle morti bianche anche sugli infortuni. A livello nazionale, in particolar modo, quali sono i dati molisani e quali settori più colpiti? Ingegner Pasquale Finelli dell'Inail. Allora, a livello, diciamo, nazionale sono circa 600 mila di infortuni complessivi, quindi tutti quanti i comparti produttivi e circa 750 infortuni sono mortali. rispetto all'anno precedente c'è un calo consistente, ovviamente legato anche alla crisi economica, ovviamente, che incide moltissimo sull'aspetto del rischio infortunistico, ovviamente, forse uno dei pochi effetti benefici, diciamo, della crisi economica, ovviamente, quindi c'è una contrazione degli infortuni complessivi e quelli mortali. A livello regionale abbiamo circa 2.500 infortuni complessivi e abbiamo registrato 4 infortuni mortali, che è il dato diciamo, recente, quello diciamo, che noi, ufficiale, ecco, dal punto di vista statistico. E' il settore più colpiti? Indubbiamente le costruzioni, quindi il caso di cui stiamo parlando, è il comparto più colpito, questo per diversissime ragioni strutturali legate a tanti aspetti del settore, ovviamente. In Molise non abbiamo avuto infortuni mortali, però mi riferisco al 2012, perché se già guardiamo, tipo, ecco, quest'anno, all'inizio dell'anno abbiamo avuto diversi eventi mortali, insomma, io già ne ricordo tre, addirittura nel primo semestre dell'anno, praticamente. Mediamente gli infortuni in Molise vanno dai 4 agli 8, insomma, oscilla tra i 4, 5, fino agli 8 infortuni mortali, mediamente ogni anno, praticamente. Quindi è un dato ancora preoccupante. Io tornerei un attimo sulla vicenda, però, della scuola Pertini, perché qui c'è, in questa tragedia, questa tragedia è seguita poi una vicenda giudiziaria molto lunga, perché il processo è iniziato nel 2001, si è concluso solo nel 2008 e quindi è arrivato a sentenza dopo diversi rinvii. Noi abbiamo fatto un servizio in redazione, grazie anche alle immagini delle Techerai, il servizio di Giovanni Mancinone. Buonasera, grave, gravissimo incidente sul lavoro nel primo pomeriggio nel cantiere di Vazieri a Campobasso, nel cantiere per la costruzione di un nuovo edificio scolastico polifunzionale. Lucio Zampino. Tragedia sul lavoro a Campobasso. Due operai sono stati sepolti vivi da uno smottamento di terra durante i lavori per la rete delle acque refuelo e del nuovo polifunzionale scolastico. Le vittime, Berardino di Palma, 55 anni, e Antonio Miele, 49 anni, entrambi di Campobasso. È successo alle 13.40, immediato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Il caso ha voluto che tra i soccorritori ci fosse il fratello di Berardino di Palma. Lo sfortunato vigile ha rischiato l'infarto. Così, l'11 marzo del 99, nel nostro telegiornale delle 19.30, abbiamo raccontato il drammatico incidente sul lavoro di via Scardocchia, costato la vita a due lavoratori. Da primi indizi raccolti emergono subito alcuni particolari importanti per il proseguimento dell'indagine. Si parla di subalpalto e ci si chiede se sono state rispettate le norme di sicurezza. Poche le testimonianze. Questa che vi proponiamo è quella che raccolse in quelle ore il collega Lucio Zampino. Quella stava stranata sotto la terra, però uno stava alla testa fuori, che ci ha parlato pure. E dice, facete subito, facete subito il soccorso, no? Per tirarlo fuori. Pote colpe senso, è andato subito. La conclusione del processo di primo grado arrivò sei anni dopo, esattamente il 29 luglio del 2005, quando il Tribunale di Campobasso condannò ad un anno di reclusione e ad una provvisionale di 15.000 euro per ognuna delle famiglie delle vittime, l'impresa che per conto della provincia di Campobasso stava realizzando l'edificio scolastico. Un processo lungo e complicato perché in appello ci riferisce Alessandro Fatica, uno degli avvocati della difesa, in alcuni momenti si fece strada l'idea che forse la colpa dovesse ricadere sui due operai ingottiti dalla terra, responsabili a detta di qualche testimone di non aver provveduto a predisporre misure di sicurezza idonee ad impedire lo smottamento. L'incidente sul lavoro di via Scardocchia era solo l'ultimo di una lunga serie. Due mesi prima, sempre a Campobasso, cadendo da un'impalcatura, perse la vita in un altro cantiere, quello dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Graziano Del Monte. Dunque avete sentito da Giovanni Mancinone, nel 2005 arriva la sentenza di primo grado, nel 2008 quella di secondo grado, in appello viene confermata la condanna per omicidio colposo plurimo, l'occupevole è considerato il titolare della ditta, però è andato prescritto un altro reato, quello di violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e anche la Cassazione conferma la sentenza di secondo grado. Noi abbiamo sentito anche i familiari delle vittime, rispettiamo la loro volontà di non partecipare a questa diretta, abbiamo constatato direttamente che il loro dolore è ancora vivo e dicono ci sono ancora tante domande senza risposte, quindi ancora sono alla ricerca della verità, non è sicuramente un risarcimento, tra l'altro che considerano incongro, come dire, a placare appunto la loro sofferenza. Ma torniamo dai nostri ospiti, andiamo da Enrico Staffieri che è responsabile di lì della UIL, le ha seguito da vicino alla vicenda, so che ha proposto anche di intitolare la scuola di operai. Sì, allora ci fu una nostra proposta proprio perché trattavasi di una scuola e credevamo e siamo ancora convinti che è il luogo in cui deve iniziare la diffusione della cultura e della sicurezza. Chiedemmo di intitolare un'aula, un qualcosa a quei lavoratori perché fosse da monito proprio ai ragazzi trattandosi di una scuola e purtroppo, come in ogni infortunio sul lavoro, quando cala il sipario dopo i funerali, il resto è il dramma dei parenti a rievocare i problemi nelle aule di tribunali per anni e anni per poi non trovare mai un colpevole. Le conclusioni le affidiamo al professore Giancarlo Ripabeli, docente all'Università del Molise, ricercatore e anche direttore del Master sulla sicurezza. È importante la formazione specialistica in questo settore perché la prevenzione non si improvvisa? Assolutamente. Noi dobbiamo considerare che la prevenzione è un asset culturale, è una forma mentale, prima ancora che normativa, prima ancora che economia, prima ancora che ispezione, controlli e così via. Del resto dobbiamo anche considerare che siamo nel 2014, la 626, la prima legge specifica nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, ormai ha 20 anni, sebbene poi sia stata sostituita nel 2008 dal testo unico. Certamente si fa prevenzione se c'è gente che conosce come fare prevenzione. Non ci si improvvisa, bisogna essere ben formati, bisogna avere le competenze giuste e in tale ambito l'Università degli Studi del Molise è impegnata ormai da anni nella formazione del personale che si occupa di sicurezza sul lavoro, sia con due corsi di laurea, uno di primo livello, uno specialistico, sia oggi con una collaborazione stretta con l'INEL che ha visto l'istituzione di un Master di primo livello che mira a formare proprio quei manager della sicurezza. Quello di cui lei è direttore. E siamo davanti a una scuola, quindi è un luogo simbolico appunto che ci ricorda proprio questo, è importante imparare da subito la prevenzione. Restituisco la linea allo studio e ci rivediamo nel corso del telegiornale delle 14. Grazie, noi restiamo al tema della nostra campagna ma ci spostiamo in un altro settore dove spesso si verificano incidenti mortali. L'agricoltura, sei anni fa la morte del bracciante Gheorghe Radu, una vicenda sulla quale è in corso un processo, la ripercorriamo nel servizio di Laura Calfapietra. 29 luglio 2008, nelle campagne di Campomarino, viene ritrovato il corpo di Gheorghe Radu, 35 anni, cittadino europeo, nazionalità romena. È riverso in una cunetta sul ciglio della strada interpoderale che attraversa i campi. Lo trova un contadino di passaggio. Gheorghe era un bracciante agricolo, lavorava insieme ad una squadra di raccoglitori di pomodori per una ditta pugliese. Morì in solitudine, abbandonato da tutti. Il cuore scoppiato per la fatica e il caldo. Le indagini appurarono che l'arrischio infarto per una gravissima patologia cardiaca non sarebbe morto se, scrive il magistrato nel capo di imputazione a carico del proprietario del terreno e di chi lo ingaggiò, fosse stato sottoposto ad un'adeguata visita medica e si è interpellato sul suo stato di salute nell'ambito di un'adeguata e pianificata programmazione di sicure condizioni di lavoro. Il processo di primo grado per omicidio colposo e per la violazione delle norme di prevenzione sui luoghi di lavoro in corso, gli imputati respingono le accuse. Laddove ha smesso di vivere c'è una croce in ferro, con il suo viso ritratto in un giorno come tanti, una foto scelta da Maria, la moglie, e Valentina, la figlia. Mi sono alzata alle 5 e mezzo con la speranza che era una giornata come tutti gli altri, però mi è andata male, è andato male perché lui è morto in quel giorno. Al mezzogiorno l'ho telefonato, non mi ha risposto perché già si sentiva male, non aveva forza di rispondermi al telefono e non l'ha fatto nessuno a un posto suo di rispondere e a dirmi che lui stava male, perché se io sapevo che veramente lui stava male in quel giorno, io lo salvavo io, perché avevo il numero di datore di lavoro e intromettevo io e lo facevo portare in ospedale, però non mi ha risposto nessuno. L'hanno abbandonato, l'hanno abbandonato per ore e ore, fino a quando l'ho trovato morto. Era già morto da due ore e quando hanno visto che era morto, sono scappati via. Il suo marito le raccontava che tipo di lavoro faceva? Sì, certo, lui mi raccontava tutto. Veniva a cassa e aveva un calendario e segnava tutti i giorni quanti tiri faceva lui al giorno, c'è anche 11 tiri al giorno. Facete un conto che è un tir, c'è 88 cassoni, quanti sforzi faceva lui al giorno. Io gli dicevo sempre ma è troppo pesante, perché non ti cambi un'altra persona? Ha detto no, io ho forza e mi piace lavorare. Maria e Valentina Radu sono riuscite ad ottenere la pensione di reversibilità grazie ad una lunghissima battaglia portata avanti da Michele Petraroia, sia con l'associazione Onlus Giuseppe Tedeschi, sia come consigliere prima, poi assessore regionale. Sue decine di interrogazioni perché potessero accedere al fondo dell'INAIL di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Maria e Valentina sono rientrate in Romania. La prossima udienza per la morte di Georg Radu si terrà il 24 luglio. Ciò che non può avere una scadenza temporale è il messaggio innanzitutto culturale che impone la memoria di Georg. La diversa nazionalità non può far diventare alcuna persona un fantasma.